Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Al segle XIX, face a la concurrenza creicente della corrida, Baroncelli entreprende e rende al abuvino sas letras di nubleso. Li offrì salare dei regli e una visibilità nubelos. Autor di forze scritte sui la Camargo e i lusbiòs, lo marquese fondò parallelamente la Nazione Gardiana, associazione di salvaguarda delle tradizioni del paese d'Arle, della Camargo e dei paesi taurini. Proprietari della Manado Santienco, meno in 1921 a Nimes, la Levado di Stridenzi, manifestazione pacifista per il mantenimento della cursa camarghese. Defensur, canturale e rinnovatore della bovina, lo marquese stabile lo principale artesan di sa memoria. Sa campo al Palazzo del Rur e proprietà familiare. Dei collection precioso che retranscono l'istoria di uno pratico e di un popolo. Uehi, mai dei settantans appreppi la morte del baroncelli e grazios a el, la fedi biaù demora tutti un autam vivo in Camargo e a campo preppi dei 250.000 espectatori a Nadiès. Grazie a tutti.